Signore e signori, buonasera. Su Paramount Plus oggi celebriamo straordinarie storie femminili. 1923, la nuova serie sulla storia di Yellowstone con una strepitosa Helen Mirren insieme a Harrison Ford e Circeo, una storia di coraggio unica sui diritti delle donne. Vi lasciamo, quando volete, con tante prime visioni e serie tv originali in streaming. Paramount Plus, una montagna di intrattenimento. Grazie a tutti.